Vuoi fare un bonifico? Vai sul menu principale. Seleziona Pagamenti e poi Bonifico. Scegli su quale conto addebitare la spesa. Inserisci i dettagli del beneficiario. O seleziona il contatto dalla tua rubrica. Digita la somma che intendi trasferire, insieme alla data di addebito e la causale. Per proseguire, clicca su Continua e invieremo un messaggio sul tuo cellulare con il riepilogo dell'operazione e un codice di conferma. Una volta inserito all'interno dello specifico campo, ti basterà cliccare su Conferma per inoltrare il bonifico. Ora che hai concluso l'operazione, puoi dare uno sguardo al dettaglio del pagamento, visualizzare il tuo saldo disponibile, effettuare un nuovo bonifico, condividere la notifica del pagamento tramite un SMS o un'email e aggiungere al tuo scadenziario l'operazione appena completata.